Bene, possiamo iniziare, scusate questo piccolo ritardo dovuto a un ritardo del treno, e possiamo iniziare con ringraziare Mario per la lezione, la lezione che abbiamo proposta anziché abbiamo concordato assieme sul filo dei ragionamenti che abbiamo fatto tra ieri e oggi, insomma, per dire se ha ancora un senso i clivaggi destra e sinistra, questa è la sostanza della cosa. La domanda che abbiamo posto è, elite popolo e destra e sinistra sono clivaggi alternativi, che vuol dire ovviamente che sentiamo la pressione oggi spostata sulla contrapolazione fra elite e popolo, ma riteniamo che si debba sempre ragionare anche sulla grande questione del clivaggio classico, destra e sinistra. Questa è la domanda che abbiamo posto, la parola a Mario per Ricciardi, per Italia America. Allora, buonasera, grazie per essere qui, grazie per la vostra pazienza, vi chiedo scusa per il ritardo. Allora, io comincerò dando una risposta secca alla domanda e poi cercherò di presentare le ragioni per cui do quella risposta. La risposta secca è che secondo me la distinzione destra e sinistra è ancora valida, non credo che la distinzione elite popolo e diciamo un po' tutti i discorsi che si stanno in qualche modo negli ultimi tempi facendo intorno al populismo e così via sostituisca la distinzione tra destra e sinistra. Anzi, mi spingerei addirittura a dire che il tentativo da parte di alcuni di argomentare che la seconda distinzione sostituisce la prima è una tipica operazione ideologica, nel senso che è il tentativo di rimuovere le questioni che venivano tradizionalmente poste dalla sinistra per sostituirle con un altro ambito di problemi che possono essere problemi molto importanti, insomma da non sottovalutare, che però non sono perfettamente equivalenti rispetto ai problemi che venivano posti tradizionalmente dalla sinistra. e questo specie quando viene fatto da persone che appartengono a partiti la cui storia almeno si riconduce a quella della sinistra è secondo me un'operazione ideologica perché è un tentativo di parlare d'altro, cioè di non rendere ragione di alcune cose che non funzionano nel tipo di operazione che si sta facendo. Però vorrei darvi un po' di elementi per illustrarvi quali sono le ragioni per cui io darei questa risposta. E in realtà per dare questi elementi io comincerei un po' da lontano, perché secondo me, diciamo, mentre la distinzione tra destra e sinistra tutto sommato non è una distinzione terribilmente complessa da esporre ed è intuitivamente chiara a molti, il discorso popolo versus elite è un discorso un po' più complicato ed è un discorso in realtà molto più antico rispetto all'opposizione destra-sinistra, nel senso che la contrapposizione tra l'elite o qualche gruppo normalmente concepito come una minoranza più illuminato, più avanzato, dotato di saggezza e così via, e il resto della popolazione è una distinzione che noi troviamo sin dagli albori non solo della democrazia ma probabilmente dello stesso pensiero politico occidentale, già in Platone e in Aristotele voi avete la presenza di questo tipo di tensione. E anche, secondo me, la prospettiva storica è utile anche per un'altra ragione, vi darò un esempio tra poco, perché in effetti se noi guardiamo queste distinzioni in prospettiva storica ci rendiamo conto anche come può essere accaduto che in certi momenti storici le due distinzioni sembrano sovrapporsi e in qualche misura addirittura arrivare a confondersi. Allora, innanzitutto qualche rapidissima indicazione molto generale e molto schematica sulla prospettiva storica. Allora, tanto per cominciare, io assumerei come dato di partenza della nostra riflessione quella che possiamo considerare un po' una concezione classica della politica. Le radici di questa concezione si trovano nel pensiero antico, nel pensiero greco, in particolar modo in Platone, e in questa concezione c'è un rapporto piuttosto stretto tra la politica e la conoscenza, la saggezza. L'idea è che la miglior società, la miglior polis, è una polis governata da coloro che sono, diciamo, depositari della conoscenza. Questo, diciamo, è quello che voi trovate come uno dei nuclei tematici, diciamo così, della Repubblica di Platone, ma è un modo di pensare al rapporto tra conoscenza e arte del governo che ritroviamo un po' in tutto il mondo classico e anche oltre poi nella tradizione che al mondo classico si riallaccia. L'idea che l'autorità dei governanti sia legata in qualche modo alla saggezza è un'idea appunto molto antica e che in un certo senso noi possiamo considerare come un modello. Ora, ovviamente, come ha detto qualcuno, gli antichi sono antichi ma non sono stupidi e quindi questa visione ingenua per cui il comandare comporti necessariamente la saggezza è una cosa che noi in realtà non troviamo nei testi classici. Gli antichi si rendono perfettamente conto che accidentalmente chi esercita il potere può non essere una persona, diciamo così, saggia e questa è la ragione per cui i rapporti tra chi detiene la saggezza e chi detiene il potere sono piuttosto complessi sin dall'antichità. Pensate alla vicenda di Platone e delle sue vicissitudini appunto con il tiranno di Siracusa insomma tutto voglio dire oppure pensate in un contesto politico piuttosto diverso di una società che non è più democratica nemmeno in quel senso speciale in cui Atene poteva essere considerata democratica pensate alle vicende di Seneca per esempio il rapporto tra Seneca e Nerone voglio dire è un rapporto non semplice però il modello c'è sullo sfondo ed è un modello che in qualche modo viene ritenuto come un modello cogente il buon governo è un governo illuminato dalla saggezza questa idea viene ovviamente in qualche modo messa alla prova quando si incontra con l'idea di un governo democratico perché ovviamente mentre è un'ipotesi tutto sommato plausibile che la saggezza non sia distribuita in maniera la saggezza è uguale tra i cittadini e quindi i saggi appunto per i filosofi classici sono tipicamente le persone che hanno avuto un certo processo di formazione di educazione insomma la ragione per cui sia per Aristotele sia per Platone era così importante l'educazione dei giovani è perché i giovani ovviamente della classe dominante ateniese quindi selezionati da una parte della popolazione erano poi destinati appunto ad occuparsi della politica e quindi era importante che fossero dotati di saggezza questa idea entra in tensione con l'idea dell'autogoverno da parte della collettività perché ovviamente c'è sempre il sospetto che la saggezza non sia ugualmente distribuita all'interno della collettività anzi gli autori classici insistono molto spesso sui pericoli che sono costituiti diciamo da un governo che sia davvero dominato dalla maggioranza diciamo degli aventi diritto a pronunciarsi in assemblea piuttosto che dai migliori, dai più saggi e così via perché appunto quella diventa una forma di governo basata sulla demagogia, sulle passioni della moltitudine e così via questi due temi entrano diciamo così in un rapporto particolarmente difficile quando con la modernità la natura diciamo così della democrazia cambia perché la democrazia ateniese è ancora comunque una democrazia molto peculiare una democrazia dove sostanzialmente hanno diritto di votare solo i cittadini i cittadini adulti, maschi e proprietari quindi una fascia molto limitata della popolazione è chiaro che quando si comincia ad affermare l'idea che invece la democrazia deve essere il governo del popolo e per popolo si comincia a intendere un'entità molto più larga anche lì c'è un processo storico ovviamente tutti gli uomini, tutti gli uomini adulti tutti gli uomini che hanno certe caratteristiche e poi anche le donne e così via però diciamo si allarga di molto la platea a cui si applica insomma l'idea di chi ha diritto a pronunciarsi in assemblea ovviamente questo tema diventa un tema ancora più problematico perché diventa sempre più difficile tenere insieme l'idea di un governo illuminato dalla saggezza e l'idea invece della volontà della maggioranza o comunque del fatto che sia semplicemente una quantità di persone le cui capacità intellettuali o la cui saggezza sono indeterminate e potrebbero anche essere molto basse appunto che la semplice maggioranza di una moltitudine di persone possa avere il sopravvento rispetto a chi invece ha una educazione diciamo di carattere superiore e in effetti si potrebbe dire questa è una tesi che è stata sostenuta da uno storico della democrazia John Dunn, un professore di Cambridge che una parte della storia moderna della democrazia lui propone questo schema mi dice in realtà la democrazia emerge in modo abbastanza casuale ad Atene ha una diffusione limitata perché non riguarda neanche tutta la Grecia e poi a un certo punto si estingue però non si estingue l'idea l'idea rimane in qualche modo nella cultura occidentale continua a essere oggetto di riflessione in parte perché si trova nei classici e quindi la tradizione che trasmette i classici si trasmette anche l'idea di democrazia di fatto la democrazia però riappare come fenomeno politico molti secoli dopo comincia a far capolino nell'esperienza dell'autogoverno cittadino i comuni e così via e poi mano a mano diciamo ritorna come un fenomeno di prima grandezza Dunn chiama questo fenomeno democracy second coming giocando un po' sulla terminologia del protestantesimo radicale cioè la seconda venuta della democrazia un po' in analogia con la seconda venuta di Cristo e Dunn insiste sul fatto che la storia moderna della democrazia in larga misura ha la storia dei tentativi di tenere sotto controllo la democrazia cioè mano a mano che si affacciano nuovamente alla realtà politica concreta tentativi di mettere in campo esperienze radicali di autogoverno pensate alla rivoluzione inglese con tutto il fenomeno delle sette che portano avanti da un lato diciamo un'idea di riforma religiosa e che però implicitamente propongono anche un modello politico molto radicale basato appunto sulle assemblee sull'autogoverno del popolo e così via mano a mano che questi tornano ad essere dei fenomeni storici significativi il grande problema diventa il problema di come tenere sotto controllo il popolo, la volontà dei molti in modo tale da temperare il governo democratico con l'elemento appunto della saggezza, della conoscenza e per esempio Dunn dice in fondo tutta la grande discussione che noi troviamo nei Federalist Papers relativa al modello politico degli Stati Uniti è in parte una discussione che ha come sottotesto questo cioè un'idea radicale di democrazia verso l'idea di un governo misto dove l'elemento democratico viene messo sotto controllo con una serie di elementi aristocratici modello che in qualche modo si era affermato anche lì in maniera un po' casuale però a un certo punto aveva preso piede in Inghilterra, nel Regno Unito e che poi diventa il modello di tutte le teorie del governo misto da Montesquieu in poi nella modernità e in particolar modo dopo la rivoluzione francese ovviamente le due distinzioni cioè la distinzione tra elite e popolo e la distinzione tra destra e sinistra che nasce con la rivoluzione francese sono destinate in qualche modo ad incontrarsi perché? Perché in fondo se voi andate a guardare quello che accade negli anni che immediatamente precedono e che immediatamente seguono la rivoluzione francese noi abbiamo un fenomeno per cui con l'illuminismo si comincia ad affermare una esigenza di riforma che ha come destinatario non unico ma primario molto importante la riforma delle istituzioni quindi la riforma del diritto la riforma della politica e così via e si cominciano a delineare degli schieramenti politici che non hanno ancora in una prima fase una espressione in assemblee parlamentari però noi possiamo già riconoscere dal punto di vista culturale ci sono i conservatori estremi i reazionari quelli che non vogliono cambiare nulla vogliono mantenere tutto come era l'anzian regime con la sua giustificazione religiosa con i suoi principi tradizionali e così via ci sono i riformisti che sono in qualche modo quelli che vorrebbero cambiare le cose ma che non mettono in discussione l'ordine politico nei suoi fondamenti pensate l'illuminismo lombardo Beccaria, Verri e così via non sono dei rivoluzionari sono dei riformisti quando Beccaria scrive dei delitti e delle pene lui si rivolge ai funzionari dell'impero austriaco insomma non è uno che sta portando avanti i dei rivoluzionari e però ben presto diciamo a questi riformisti diciamo così si affiancano invece persone che avanzano delle ipotesi diciamo di riforma molto più radicale molto più estrema che noi possiamo considerare appunto in qualche modo gli antenati della sinistra intesa nel senso novecentesco pensate ai giacobini durante la rivoluzione francese e qui c'è un elemento molto importante che va secondo me a individuare il nucleo tematico dell'idea di sinistra che è il rapporto che c'è tra la sinistra e l'eguaglianza perché in qualche modo quando si affaccia questa istanza radicale nel corso dell'illuminismo e quando poi prende una veste politica anche diciamo dal punto di vista della rappresentanza nelle assemblee si affaccia come un'istanza legata all'eguaglianza non soltanto all'eguaglianza dei diritti che è una battaglia come dire dei diritti politici che è una battaglia che tutto sommato risale più indietro nel tempo ma all'eguaglianza dal punto di vista diciamo così del potere reale dell'influenza della ricchezza non è un caso che un attore molto importante di tutte le vicende rivoluzionari in Francia innanzitutto è appunto il popolo inteso in un senso molto più ampio cioè non è soltanto l'aristocrazia sono gli abitanti di Parigi saranno di volta in volta vabbè i popolani nelle vicende del 99 ma poi se pensate al 48 è un po' la classe media i piccoli gli artigiani insomma diciamo una platea di persone che da un lato avanzano delle rivendicazioni diciamo di diritti politici la questione dell'allargamento del suffraggio per esempio è cruciale nell'esplosione della rivoluzione del 48 però queste istanze si incrociano con istanze di eguaglianza economica cioè c'è il tema povertà versus ricchezza privilegio versus esclusione diciamo dalle opportunità e questo diventa un po' diciamo il nucleo della distinzione tra la sinistra e la destra la sinistra è quella che avanza queste istanze la destra è quella che resiste con i riformisti che stanno in mezzo diciamo perché sono un po' sballottati da una parte e dall'altra a seconda di come vanno le cose quando la sinistra radicale diventa molto forte i riformisti si trovano spesso nell'angolo e finiscono talvolta per essere d'accordo con i conservatori quando invece diciamo la situazione muta i riformisti possono prendere il sopravvento e addirittura portare con sé una parte dei conservatori questo è quello che accade per esempio in un modo molto interessante a metà dell'ottocento nel Regno Unito quando a un certo punto nascono quelli che sono diciamo in qualche modo gli antenati dei due partiti principali del sistema britannico tant'è che uno dei due ha ancora lo stesso nome che aveva allora cioè i Tories che poi diventeranno conservative party ma diciamo ancora oggi nel linguaggio colloquiale vengono chiamati i Tories e quando nascono i Whigs che sono diciamo gli antenati dei liberali non dei laboristi e la spaccatura avviene proprio su questo i Tories sono i rappresentanti della diciamo in qualche modo dell'aristocrazia e del potere tradizionale che è ancora un potere basato sulla proprietà della terra una parte però dell'aristocrazia ha cominciato a vedere i benefici del commercio e si rende conto che il protezionismo difeso dai proprietari terrieri è un ostacolo allo sviluppo dell'industria e quindi si comincia a spostare diciamo così dall'altra parte nascono in questo modo i Whigs c'è la grande battaglia sulle leggi del grano nel 1846 per cui l'abolizione del regime protezionista è la cosa che in qualche modo manda in frantumi l'ordine tradizionale e fa nascere un bipolarismo tra un partito conservatore un partito progressista che non è un partito radicale però tant'è vero che quando una decina d'anni dopo l'approvazione dell'abolizione delle leggi sul grano Karl Marx nella sua veste di giornalista politico un lavoro che peraltro riusciva benissimo è molto bravo a farlo scrive un articolo in cui spiega anzi sono un paio di articoli in cui spiega al pubblico tedesco in un caso al pubblico americano in un altro il sistema politico britannico lui fa notare questa cosa ed è molto interessante perché lui descrive il sistema britannico non come un sistema bipartitico perché lui dice ci sono i Tories ci sono i Whigs e poi però spiega che ci sono tutta una serie di altre realtà un po' nebulose che ruotano intorno soprattutto al lato progressista e tra queste mette in risalto il movimento operaio nascente lui li chiama in quel momento i Chartists cioè il movimento cartista cosiddetto che in qualche modo rappresenta una versione diversa del progressismo perché è molto più radicale molto più cioè contesta diciamo in qualche modo l'ordinamento politico ed economico cosa che invece i Whigs non fanno i Whigs vogliono riformarlo vogliono rendere più efficiente ma non vogliono cambiarlo tra l'altro i grandi Whigs nota Marx sono sostanzialmente in buona parte esponenti delle vecchie famiglie aristocratiche i Bedford e tanti altri quindi non è che siano in quella fase ancora dei leader democratici perché sto richiamando questo punto perché proprio la situazione dell'Inghilterra a metà del secolo ci dà un interessante esempio per capire come queste distinzioni possono sovrapporsi addirittura cambiare di senso perché cosa succede in seguito all'ascesa dei Whigs che in un certo senso le famiglie buona parte delle famiglie più influenti dell'aristocrazia si spostano dalla parte del progresso diciamo degli interessi commerciali economici e così via i Tories a questo punto diventano il partito della piccola aristocrazia di quelli che sono rimasti nelle campagne che dipendono molto di più dalla proprietà della terra perché non hanno fatto il salto verso l'industria verso la finanza e così via e che difendono una visione più tradizionale della società una visione conservatrice e così via e a questo punto c'è un curioso ribaltamento Marx lo mette molto bene mi sono annotato il passaggio perché è veramente divertente lui dice in questo momento non c'è più alcuna differenza tra i Wiggs e i Tories lui scrive nel 1855 a parte per il fatto che i secondi rappresentano la plebe dell'aristocrazia e i primi rappresentano la crema dell'aristocrazia allora questo perché è interessante questa cosa perché vi fa vedere come una distinzione come può essere la distinzione tra elite e popolo per esempio è soggetta a slittamenti per cui diciamo quelli che in una certa fase storica vengono considerati l'elite possono in seguito a una trasformazione economica in un certo senso retrocedere verso il popolo e una posizione invece diciamo di preminenza dal punto di vista culturale dal punto di vista Marx utilizzando un'espressione che era corrente a quel tempo si riferisce ai Whigs come il partito illuminato cioè di quelli che hanno più educazione più cultura sono più aperti al mondo e quindi c'è da questo punto di vista uno slittamento molto interessante perché la vecchia elite non è più l'elite e di fatto per cercare di rinsaldare il proprio potere si rivolge in qualche modo a una parte del popolo si rivolge a quella parte del popolo che vive più nelle campagne che vive diciamo così in qualche modo che non è direttamente coinvolta nella diciamo così nell'economia più vivace più dinamica delle grandi città e un pezzo della vecchia elite aristocratica si allea con i borghesi e diventa a questo punto un'elite di carattere nuovo questi secondi politicamente possiamo considerarli progressisti a metà dell'ottocento quegli altri conservatori però c'è una cosa interessante che sempre Marx nota lui dice a questo punto che succede che i leader dei vecchi diciamo dei conservatori non sono quasi mai più dei leader che vengono dalle grandi famiglie ma cominciano ad essere dei leader Marx che è sempre un po' sprezzati dice sono dei parvenu e fa una lista io vi segnalo soltanto uno che secondo me è un caso straordinariamente interessante cioè Benjamin Disraeli Benjamin Disraeli grande primo ministro conservatore una delle figure chiave della politica britannica della seconda metà del novecento figlio di un ebreo convertito emigrati relativamente di recente origine probabilmente spagnola ma insomma storia molto incerta anche perché lui è uno straordinario fantasista per cui come dire romanza la propria vita in vario modo ed è una persona che non appartiene all'establishment è da molti punti di vista un self-made man considerato con un certo sospetto dall'establishment tradizionale perché eccessivamente affettato si veste in modo stravagante è in un certo senso un intellettuale perché uno che ha scritto dei romanzi di successo insomma una persona che usa molto bene le parole ma non è establishment nel senso tradizionale e però diventa in qualche modo il leader del partito conservatore ma dato che il partito conservatore a questo punto ha bisogno del popolo per mantenere la propria come dire la propria base elettorale fa cose che sono abbastanza strane per un conservatore da un lato in alcune situazioni in realtà spinge per l'ampliamento della base elettorale contro i liberali che sono più cauti e poi diciamo si inventa in qualche modo uno stile di politica che è basato sulle associazioni popolari di sostenitori del partito la cosiddetta primrose society e così via che sono un fenomeno in realtà di estrema modernizzazione e in realtà di popolarizzazione del conservatorismo perché questa storia è interessante perché ci fa vedere come diciamo così le due distinzioni cioè la distinzione tra elite e popolo e la distinzione destra e sinistra possono occasionalmente convergere non convergono necessariamente che la distinzione tra elite e popolo è una distinzione che slitta nel tempo e poi per un'altra ragione pensate a Brexit se voi andate a guardare i risultati elettorali di Brexit la voi ricorderete diciamo sì e il no erano molto vicini ma la cosa interessante è che il sì ha vinto massicciamente nella periferia nelle campagne ed è stato sostenuto dai tori di quel tipo lì cioè dai tori della delle vecchie virtù della provincia dell'Inghilterra immutabile del no il parish con il il prato tutte e dall'altra parte le grandi città chi vive di servizi di finanza di allora è abbastanza interessante questa cosa perché noi vediamo una distinzione che in realtà non è una distinzione nuova cioè si riproduce una situazione che c'è stata in un certo momento dell'ottocento cioè una parte del paese che è in qualche modo più innovativa e che sposa la causa dell'apertura della libera circolazione delle merci e così via e dall'altra parte un pezzo del paese che invece vuole conservare le cose come stanno secondo me questi esempi storici ma io credo che se ne potrebbero fare diversi altri sono convinto che anche nella storia italiana probabilmente ci sono analogie simili cioè di slittamenti nelle due diciamo nelle due distinzioni noi la famosa battuta chi era Crispi che diceva che uno quelli che cominciano incendiari poi finiscono finiscono pompieri insomma questo tipo di cose credo che appartengono abbastanza normalmente alle dinamiche della politica democratica cioè una politica che in qualche modo risponde risponde alle sfide poste non solo dall'ambiente e soprattutto l'ambiente internazionale ma in un certo senso anche dalle circostanze economiche e il fatto che comunque il consenso elettorale sia un fattore determinante nella politica democratica provoca questo tipo di slittamenti perché oggi la faccenda è diventata un po' più complicata e qui veniamo diciamo sia l'attualità perché diciamo nel periodo che comincia grossomodo dopo l'89 noi abbiamo dico noi tendendo soprattutto il mondo occidentale in particolar modo l'Europa in particolar modo il pezzo dell'Europa a cui appartiene l'Italia quindi diciamo quei paesi che fanno parte un po' dei soci fondatori dell'Unione Europea diciamo abbiamo vissuto un periodo di grande prosperità di possiamo dire progresso economico civile e così via in un contesto nel quale si aveva l'impressione a torto o a ragione io penso a torto ma comunque questa era un po' l'atmosfera che la società internazionale avesse raggiunto una specie di situazione diciamo sì di equilibrio c'era un potere in qualche modo più 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 capace di proiezione degli altri dal punto di vista militare che era rappresentato dagli Stati Uniti gli Stati Uniti erano una potenza democratica e quindi vivevamo tutti sotto questa ripeto è una cosa contestabile io la contesterei però comunque sotto questo ombrello di principi democratici liberali e così via in questa fase molti hanno ritenuto che la distinzione destra-sinistra fosse una distinzione in qualche modo superata perché? perché le battaglie iniziate con la rivoluzione francese e poi col movimento socialista erano in qualche modo delle battaglie vinte io ricordo più o meno in quegli anni diciamo fine anni Ottanta un articolo di Massimo Cacciari su Micromega che sosteneva proprio questo cioè lui diceva dice ma ormai perché la sinistra è in crisi? è in crisi perché ha vinto perché in realtà ha avanzato delle istanze che sono le istanze della Welfare Society la Welfare Society si è realizzata e quindi a questo punto la sinistra ha perso la sua ragione d'essere ora a parte che diciamo bisogna essere veramente in comunicazione con lo spirito del mondo per affermare le cose con tale certezza nel senso che quello era un equilibrio un equilibrio momentaneo cui faceva peraltro come dire da contraltare un mondo dove stava accadendo di tutto perché non è che gli anni Ottanta sono stati o gli anni Novanta degli anni di tranquillità prosperità e progresso per tutti quindi uno poteva anche farsi delle domande su tutto questo e in particolar modo dagli anni Novanta in poi e noi i problemi ce li abbiamo avuti dietro una porta di casa insomma la guerra in Jugoslavia e tutte le cose che sono successe da allora io francamente io sto per compiere 51 anni ho visto di gran lunga più guerre nella seconda metà della mia vita che nella prima cioè io sono cresciuto faccio parte di quella generazione che è cresciuta con l'angoscia dell'annichilazione nucleare però poi le guerre erano delle cose che accadevano in posti diciamo relativamente lontani e che in linea di massima non ci riguardavano oggi io non insomma non sarei più scioccato da guerre anche tra paesi relativamente vicini a noi insomma pensate a quello che succede in Ucraina pensate alla Polonia pensate all'Ungheria pensate voglio dire la storia si è rimessa in movimento insomma altro che fine della storia si è rimessa in movimento in modo anche abbastanza tumultuoso però ripeto questa era diventata un po' l'idea senso comune l'idea che devo dire con il senno di poi probabilmente veniva in qualche modo anche assecondata in parte ed è stata assecondata anche dai partiti della sinistra perché in qualche modo diciamo così i partiti della sinistra diventavano in questo senso dei partiti che si associavano al potere in una società capitalistica in un modo molto più fluido di quanto avvenisse nella prospettiva tradizionale si rimuove l'elemento della conflittualità non c'è più il conflitto tra capitale e lavoro il punto diventa semplicemente quello di gestire l'amministrazione delle cose per riprendere la vecchia espressione in maniera efficiente e quindi se i social democratici si risultano più abili dei cristiano democratici perché no in fondo non toccheranno le cose fondamentali del sistema questo crea però un enorme problema per la sinistra che è un problema che in fondo viene avvertito a tutte le sinistre europee che è quello di per riprendere la vecchia battuta di Anni Moretti di dire o fare qualcosa di sinistra e a questo punto questo problema trovo una soluzione molto chiara diciamo nell'azione per esempio di Clinton negli Stati Uniti in maniera ancora più netta di Blair nel Regno Unito di agire sull'espansione di diritti che in realtà non sono diritti che toccano il rapporto tra capitale e lavoro ma sono diritti che espandono la sfera della libertà individuale quindi la sfera per esempio delle relazioni sessuali la sfera diciamo della tutte le scelte relative al proprio corpo la propria vita i temi bioetici e così via quella diventa in un certo senso la frontiera e qui accade un altro slittamento molto interessante perché in realtà queste battaglie non sono necessariamente battaglie che non piacciono alla destra cioè sono battaglie che non piacciono alla destra diciamo tradizionalista alla destra religiosa ma sono battaglie che in realtà vanno benissimo e anzi sono in qualche modo diciamo ci sono in prima fila su queste battaglie gli esponenti della destra radicale della destra libertaria questo è un elemento che noi abbiamo visto in Italia banalmente ma c'è in tutto il mondo quando c'erano le fratture sulle questioni dei diritti civili voi assistevate spesso non sempre però spesso a non so i radicali che a quel tempo stavano con Forza Italia oppure alcuni esponenti della stessa Forza Italia eccetera che stavano dalla parte dell'ampliamento dei diritti perché lì la distinzione diventava quella tra chi ha una visione tradizionale fondamente religiosa della società e chi invece ha una visione libertaria quindi un'idea liberale molto radicale e quindi crede nell'autodeterminazione individuale nei modi più estremi perché questa cosa in realtà era destinata però a generare un problema perché ovviamente se la sinistra si identifica soltanto con questa parte ci sono due cose che non funzionano la prima è che nessuno più rappresenta gli interessi del lavoro o di quella parte più debole del lavoro dei diseredati di quelli che non ce la fanno degli sfortunati allora quel tipo di diritti civili sono diritti civili che interessano prevalentemente una borghesia urbana colta e molto avanzata persone spesso abbastanza giovani che hanno quindi scelte di vita anche più anticonformiste se volete tutti gli altri sono tagliati fuori e non trovano più una voce una rappresentanza all'interno della sinistra forse non l'avevano neanche mai trovata del tutto perché per esempio la sinistra in Italia su queste cose è abbastanza conservatrice se vogliamo pensiamo all'atteggiamento sull'omosessualità e così via però di fatto come dire si crea una 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 cesura perché una parte degli esclusi non vedono più la sinistra come un interlocutore dall'altro lato questi sono diritti che sono perfettamente compatibili con una società capitalista anche molto come dire molto neoliberale per così dire perché in fondo nel modello neoliberale l'idea che ognuno si scelga il progetto di vita che vuole e che abbia i consumi la ricerca del piacere ci sta benissimo l'importante che paghi il prezzo che si deve pagare non c'è problema il neoliberismo da questo punto di vista è laico voglio dire non propone una visione tradizionale della società e questo è uno degli elementi molto importanti che secondo me vengono al pettine nella fase post 2008 perché nella fase post 2008 una sinistra tradizionale diciamo una sinistra storica socialdemocratica socialista in Francia ex PC con tutte le sue mutazioni in Italia che in fondo ha messo tra parentesi la questione del conflitto tra capitale e lavoro si è identificata in quanto progressista soprattutto con istanze di libertà sono diventati un po' come i wig dell'ottocento da questo punto di vista cioè sono quelli più cosmopoliti più aperti a cui piace una società dinamica e così via si trova intenzione non solo con una parte della sua constituency storica nella misura in cui esiste ancora perché ovviamente nessuno pensa non lo penso io che esista più la classe operaia nel senso tradizionale del termine però esiste una quantità di persone che in ruoli diversi svolgono lavori di tipo salariato svolgono lavori che sono magari di carattere precario insomma voglio dire una moltitudine di soggetti che non si sentono certamente parte dei vincenti oppure che hanno paura di diventare perdenti perché quello è un altro pezzo molto importante cioè soprattutto nei fenomeni elettorali un po' sorprendenti cui stiamo assistendo negli ultimi anni la fetta di quelli che sono middle class ma hanno paura di non esserlo più è un elemento molto importante perché ricorderete la vittoria di Trump si disse subito ah ma non c'entra la povertà non c'entra la povertà misurata in modo o non c'entra del tutto poi su quello sono un sacco di discussioni però il punto è non è che i più poveri votino per Trump votano per Trump quelli che hanno paura e una parte di quelli che hanno paura sono quelli della middle class che hanno paura di diventare marginali di essere come dire in qualche modo umiliati e offesi dall'elite cittadine che hanno stili di vita che loro non condividono e che trovano profondamente offensivi che hanno paura degli immigrati e così via quindi persone che hanno un benessere relativo non sono poveri in termini assoluti e che però hanno paura perché non vedono più la prospettiva cioè l'economia non cresce c'è la crisi tu devi fare un'enorme fatica per ottenere 0,5 quando hai memoria dei tuoi genitori che ottenevano 20 in un periodo in cui le cose andavano molto più più sciolte e quindi arriviamo alla situazione attuale cioè una situazione nella quale in un certo senso diciamo le due distinzioni cioè la distinzione elite popolo e la distinzione destra-sinistra sembrano in qualche misura sovrapporsi fino a però in qualche senso far sparire una delle due nel senso che la sinistra tradizionale si identifica in larga misura con la parte più illuminata più aperta più istruita per certi versi voi avete visto i dati elettorali sono molto ci sono un sacco di in moltissime situazioni ci sono delle differenze molto importanti relativamente al titolo di studio rispetto al voto e la destra sembra invece in qualche modo non essere più il partito dell'establishment ma addirittura la voce del popolo tra l'altro in Italia questa cosa è molto interessante perché in queste ore noi stiamo assistendo in realtà a quella che sembra una convergenza di due forze politiche che per mesi sono state descritte una era la destra l'altra erano i populisti poi in realtà era una destra molto populista ed erano dei populisti con dentro molte istanze di destra e adesso sembra che stiano confluendo apparentemente senza dei problemi gravissimi perché pare che stiano discutendo insomma da quello che si legge sui giornali comincia a venire fuori un profilo è un profilo piuttosto di destra perché buona parte delle cose che vengono fuori sono diciamo cose che piacciono a un certo tipo di destra che è la destra che guarda molto di più appunto al popolo minuto per riprendere un'espressione che viene dagli Stati Uniti noi minutemen piuttosto che agli interessi diciamo così della borghesia più illuminata nelle ultime elezioni questa cosa è stata anche in modo molto ironico messa in evidenza da chi faceva notare che il PD ha avuto un grande successo ai Parioli nel centro di Milano insomma in zone che sicuramente non si caratterizzano come dire per la presenza di significative significative fasce di disagio sociale mentre invece è crollato quasi dappertutto e soprattutto nei posti dove un tempo era molto forte le vecchie regioni rosse sono state un bagno di sangue nelle ultime elezioni quindi che lezione possiamo noi trarre da una rassegna storica ripeto molto rozza molto schematica a quella che vi ho presentato allora la prima è che diciamo le categorie politiche hanno una storia questo non vuol dire che non abbiano un significato cioè che si possa attribuire qualunque significato alle parole però dobbiamo renderci conto che diciamo così il significato slitta nel corso del tempo può avere talvolta delle torsioni controintuitive per cui appunto la parte aristocratica l'elite e così via può diventare come erano i tori il partito che guarda molto più al popolo minuto e gli ex radicali o comunque progressisti diventare invece il partito dell'elite e quindi un minimo di profondità storica ci vuole e questo serve a capire che molte delle discussioni che noi facciamo delle discussioni che ci sono diciamo nella nostra sfera pubblica che da questo punto di vista effettivamente come dire non si caratterizza più per una qualità di discorso particolarmente elevata e sono abbastanza insensati cioè non ha molto senso dire è di sinistra e di destra se non spieghi in che senso di sinistra e di destra per esempio un certo tipo di difesa radicale del libero mercato e dell'ampliamento del mercato in sfere della società dove tradizionalmente non si applicavano meccanismi di mercato è in un certo senso destra però non è la destra conservatrice tradizionale questo noi l'abbiamo visto in maniera molto chiara nel Regno Unito dove a un certo punto i conservatori da questo punto di vista si sono spaccati una piccola minoranza quelli che la Thatcher con disprezzo chiamava i Wetz cioè quelli che c'erano sempre la lacrimuccia all'occhio perché si commuovevano per le sorti del popolo diventa diciamo in qualche modo marginale però perché? perché la Thatcher è stata in qualche modo una persona che ha difeso un'idea radicale di destra che innovava moltissimo rispetto alla tradizione nella tradizione del conservatorismo c'era anche l'idea in qualche modo di farsi carico di un minimo di sicurezza sociale come in fondo era anche nella tradizione dei conservatori tedeschi pensate a Bismarck o cose di questo genere quindi bisogna sempre dire destra in che senso sinistra in che senso vuol dire questo che noi possiamo costruire diciamo delle idee di destra e di sinistra geometria variabile io non ne sono così sicuro perché sono convinto e qui in qualche modo tutti quanti penseranno al vecchio libro di Bobbio io diciamo non sono tanto convinto dagli argomenti che usava Bobbio però condivido la sostanza della sua tesi cioè che la preoccupazione per l'eguaglianza rimanga il punto caratterizzante della sinistra cioè l'idea che si debba essere non solo liberi ma egualmente liberi che è un'idea che si può declinare in vari modi c'è la declinazione socialista c'è la declinazione diciamo così di una sinistra liberale voglio dire per esempio nella mia formazione è molto importante diciamo il dibattito americano inglese sulla teoria della giustizia io mi riconosco molto nella posizione di John Rawls John Rawls è un liberale di sinistra molto di sinistra diciamo sugli standard del liberalismo contemporaneo infatti in America diciamo la destra lo considera quasi un comunista però è un liberale non è come dire non è uno che appartenga alla tradizione socialista da questo punto di vista e dall'altro lato c'è chi propone non la libertà e questa è la cosa che non funziona nella distinzione di Bobbio perché Bobbio aveva una certa tendenza a innamorarsi diciamo di dicotomie nette il punto non è la libertà perché anche la sinistra difende la libertà persino Marx difende una qualche idea di libertà perché soprattutto nel Marx giovane l'idea della liberazione c'è poi uno può dire i metodi non come dire non hanno proprio dato l'esito sperato però non è come dire non c'è l'idea dell'uniformità sociale il Marx dei manoscritti filosofici anzi è un happening la società che lui ha in mente la mattina a pescare la sera scriviamo poesia nel pomeriggio suoniamo il pianoforte insomma è una cosa è un mondo di libertà non è un mondo di uniformità poi è chiaro che la storia del comunismo prende però lì insomma c'entra non solo Marx c'entra Engels c'entra un sacco di altri che vengono dopo non è la libertà è l'idea diciamo che che invece l'eguaglianza non sia realizzabile che l'eguaglianza sia un'illusione che l'eguaglianza non sia una cosa buona e questo è quello che in realtà unisce veramente le destre perché la destra diciamo libertaria radicale e la destra conservatrice in questo sono unite perché entrambe accettano tranquillamente la diseguaglianza la differenza sta nel fatto che la prima accetta una diseguaglianza generata da meccanismi di mercato perché le dà una copertura morale perché con un gioco di prestigio il mercato diventa ciò che seleziona l'eccellenza che è una cosa che tanto per fare un esempio Friedrich Hayek che certamente non era un socialista spiega molto chiaramente cioè Hayek dice sì certo il mercato è un però il mercato serve semplicemente a individuare le preferenze delle persone poi le preferenze delle persone possono essere le più varie non è che tutto quello che viene preferito sia di per sé necessariamente buono e dall'altro lato c'è la destra conservatrice che crede in una visione tradizionale della società dove ci sono diciamo persone che hanno in un certo senso titolo diritto a governare ad avere delle posizioni di privilegio ad avere delle posizioni e che sono di volta in volta quelli che sono depositari dei saperi religioso oppure quelli che hanno un certo tipo di legittimazione sociale le aristocrazie nel senso tradizionale del termine oppure come dire di volta in volta le varie forme di ideali diciamo così basati sull'idea che la società deve essere gerarchica non egualitaria ora e quanto tempo c'è ancora ok allora ovviamente ci sono in questa rappresentazione molto schematica cioè eguaglianza sinistra gerarchia destra dove la gerarchia può essere generata in modi diversi ci sono delle cose ovviamente da dire la prima è che l'obiezione che qualunque conservatore farebbe è che ovviamente è difficile immaginare una società funzionante senza qualche forma di asimmetria perché in parte apparentemente per ragioni come dire quasi concettuali nel senso che l'ordine anche dal punto di vista logico richiede asimmetria cioè ci deve essere prima dopo sopra sotto non riuscite a concepire l'ordine se non attraverso alcune relazioni asimmetriche e questo si trasmette abbastanza bene alla sfera della politica perché la sfera della politica comporta necessariamente coordinamento direzione c'è bisogno di qualcuno che prende le decisioni in alcuni casi che le prenda velocemente la guerra le crisi voglio dire non si può fare un'assemblea permanente il grande fallimento di una stagione della sinistra radicale il 68 e così via è l'illusione che si possa fare un'assemblea permanente su tutto in realtà non è vero non solo non è vero nelle emergenze ma poi non è vero anche come si è fatto notare in seguito e poi molta gente preferirebbe occuparsi della propria vita piuttosto che stare continuamente in un'assemblea che delibera incessantemente su qualsiasi cosa quindi è chiaro che non è possibile eliminare del tutto l'elemento vogliamo chiamarlo del comando usando un'espressione un po' forte però come dire la uso in modo neutro cioè del fatto che qualcuno ha il compito contestualmente a tempo non stiamo parlando di comando come dire eterno cioè del fatto che in ogni situazione se c'è un'esigenza di coordinare le azioni di numeri molto ampi di persone ci deve essere qualcuno che dice ok allora tu esci prima tu chiudi la porta tu spegni le luce e così via come questo si può conciliare con l'eguaglianza io qui faccio riferimento alla teoria della giustizia di Rawls che secondo me come dire si pone questo problema in maniera molto 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 chiara molto limpida e dà una risposta che a mio avviso è compatibile con una idea sensata di cosa vuol dire essere di sinistra cioè pensate ai due principi di giustizia di Rawls allora il primo è un principio che riguarda le libertà le cosiddette libertà di base che sono essenzialmente le libertà costituzionali della tradizione liberale quindi libertà politiche libertà di espressione del pensiero e così via libertà di associazione poi e queste devono essere rigorosamente uguali cioè nessuno può essere escluso da queste libertà è possibile una restrizione di queste libertà in situazioni di emergenza un problema che Rawls si pone per esempio è possibile che in una situazione di guerra si debba restringere non so la libertà di espressione del pensiero in situazioni di in cui c'è un'emergenza nazionale però questo deve essere fatto se è sottoposto a una serie di vincoli che sono i vincoli del tempo della giustificazione del fatto che il limite deve essere uguale quindi non può essere per alcuni sì e per altri no cioè se c'è il divieto di parlare di certe cose non so dove sono disposte le nostre truppe durante la guerra vale per tutti non vale solo per una classe di cittadini ed è sottoposto ripeto a una serie di vincoli molto stringenti quindi le libertà sono uguali queste libertà di base e se in situazioni eccezionali si restringono si restringono ugualmente per tutti cioè rimane il rapporto rimane lo stesso cioè siamo sempre tutti ugualmente liberi anche se collettivamente c'è stata una restrizione momentanea per una situazione di emergenza poi però Rawls si pone proprio il problema che vi ponevo un attimo fa come facciamo a capire quali sono le diseguaglianze accettabili posto che alcune diseguaglianze sono necessarie allora e qui Rawls propone il suo secondo principio di giustizia che è molto articolato perché in realtà nella sua formulazione più ampia ha diverse clausole che dice sostanzialmente questo primo bisogna mostrare che le diseguaglianze sono a vantaggio di ciascuno allora questo è un elemento molto importante un elemento tra l'altro che riguarda il rapporto tra liberalismo e socialismo perché la tesi di Rawls è che un punto che inevitabilmente diciamo è toccato da questo principio da questa parte del secondo principio di giustizia è quello del ruolo del mercato noi non conosciamo e non siamo riusciti a trovare allo stato attuale una forma più efficiente di allocazione delle risorse per la produzione e così via rispetto al mercato il mercato però genera inevitabilmente delle diseguaglianze allora è accettabile o inaccettabile è accettabile se va a vantaggio di tutti quindi mercato sì ma non mercato sempre non mercato a prescindere da qualunque tipo di regolamentazione di il modello che viene fuori da Rawls voglio dire la teoria della giustizia è un librone piuttosto voluminoso Rawls non entra nei dettagli però si capisce abbastanza bene cosa lui abbia in mente lui ha in mente appunto una società lui la chiama la società dei proprietari nel senso che lui ha l'idea appunto di una società democratica dove tutti hanno accesso sostanzialmente a un certo livello di benessere perché c'è un'economia di mercato però questa economia di mercato è un'economia di mercato molto regolata quindi si evita che si formino posizioni di monopolio insomma si interviene costantemente per cercare di correggere in maniera attiva i fallimenti del mercato e così via quindi primo punto diseguaglianze sono accettabili se vanno a vantaggio di ciascuno ciascuno va inteso in senso stretto cioè non ci deve essere nessuno che in principio è escluso ovviamente come Rawls stesso dice è chiaro che nelle interazioni economiche di mercato non tutti vincono ci sono dei vincenti e dei perdenti però il punto essenziale è che non ci sia un gruppo sociale che è sistematicamente perdente cioè ci deve essere una situazione sufficientemente fluida da generare benessere e da far sì che questo benessere diciamo sia quanto più possibile distribuito in modo ampio seconda condizione le posizioni e in particolar modo le posizioni di carattere costituzionale quindi le cariche pubbliche e così via che si accompagnano a prestigio potere opportunità di guadagno devono essere aperte a tutti quindi non c'è un'aristocrazia del sangue non c'è cioè non siamo nell'anzian regime non c'è e non c'è però neanche il fenomeno che noi conosciamo benissimo dove diciamo così chi ha raggiunto posizioni di relativo benessere poi in qualche modo crea delle come dire delle difese del proprio benessere per garantire la perpetuazione di questa posizione rispetto alle generazioni che vengono dopo quindi devono essere accessibili a tutti accessibili a tutti in un regime di dice Rawls equa eguaglianza di opportunità quindi non è l'idea meritocratica del i più bravi prevarranno perché bisogna invece compensare cioè la corsa deve essere veramente una corsa alla pari quindi se c'è un handicap l'handicap deve essere riconosciuto e così via tra l'altro è molto interessante qui una cosa noi ne abbiamo già parlato una volta qui Rawls dice esplicitamente che la società giusta non è una società meritocratica lui è contro la meritocrazia e correttamente riporta il discorso della meritocrazia alla sua fonte originaria il famoso libro di Michael Young The Rise of Meritocracy che è in realtà una distopia negativa cioè meritocrazia viene inventata da Young con un termine negativo perché è l'idea di un'elite che raggiunge il vertice della società e poi difende la propria posizione di privilegio attraverso un argomento morale perché siamo diventati l'elite perché siamo i migliori voi brutti e zozzoni ignoranti siete i peggiori e vi teniamo a distanza perché non avete titolo a governare e Rise of Meritocracy che che ne dica un autore che in Italia ha fatto un sacco di soldi scrivendo un libro che si chiama meritocrazia non è un saggio è un romanzo anche se è scritto con un saggio perché è appunto un è il racconto di quello che succede nel Regno Unito del non mi ricordo più la data ma comunque insomma un futuro che per noi è ormai passato ma che quando fu scritto il libro era futuro dove sostanzialmente appunto l'elite economico sociale si auto immunizza dalla concorrenza dall'esigenza di rendere conto di quello che fa eccetera sulla base di questo argomento del noi siamo i migliori e questo provoca una progressiva radicalizzazione della politica per cui il libro di Young finisce con una rivoluzione nella quale gli immeritevoli massacrano i meritevoli che è più o meno quello che in qualche modo sta come dire non dico accadendo però comincia a diventare una uno scenario per cui in realtà è un libro molto importante di Rise of Meritocracy comunque Rawls insiste la mia non è una società meritocratica è una società dove le posizioni sono diciamo le posizioni della gerarchia sono aperte a tutti in un regime di ecquaglianza e di opportunità terzo e ultimo punto tra vari assetti sociali possibili va favorito quello che massimizza le aspettative di benessere di coloro che stanno peggio cioè come se non bastasse tutta questa roba che abbiamo detto prima bisogna anche individuare le posizioni sociali svantaggiate quindi non individui ma gruppi tipi quindi non so il lavoratore non qualificato e bisogna tra le varie diciamo scelte in termini di modelli di regolamentazione è molto importante considerare che i principi di giustizia non si applicano alle azioni delle persone si applicano alle istituzioni quindi plasmano il modo in cui per esempio facciamo la regolamentazione del mercato del lavoro per fare un esempio quello deve essere diciamo in qualche modo in armonia con i principi di giustizia allora tra diversi assetti possibili si deve scegliere quello che massimizza le aspettative di benessere di coloro che stanno peggio tutta questa roba qua configura appunto un regime politico diciamo una idea di società che secondo me si può tranquillamente considerare di sinistra che sta nell'alveo di una tradizione democratico liberale perché Rawls non è un rivoluzionario non propone la presa di possesso dei mezzi di produzione non vuole instaurare il socialismo non vuole abolire il mercato però richiede cose molto esigenti vi faccio qualche esempio di cose che peraltro noi o non abbiamo o stiamo perdendo o abbiamo in misura molto limitata pensate al primo principio di giustizia accesso a quale ai diritti politici cosa vuol dire questo in termini di finanziamento della politica cioè il fatto che ormai noi stiamo andando verso una situazione ovunque in tutto il mondo occidentale in cui il denaro si traduce direttamente in potere politico noi in Italia ce lo siamo proprio dimenticato anche semplicemente che questo sia un problema nel senso che noi ormai diamo per scontato che c'è un signore che sta in politica da vent'anni e che praticamente è proprietario del suo partito e che si comporta come il proprietario del partito un'altra forza politica che è un rapporto a dir poco ambiguo con un'entità commerciale che è una società che si occupa appunto di comunicazione strategie web e così via un terzo partito che non si sa ancora quanto sopravviverà e che però c'ha anche lui dei rapporti a questo punto direi non proprio sereni con questo questo aspetto diciamo l'aspetto di come si finanzia la politica come no c'è il partito poi ci sono le fondazioni c'è la fondazione del segretario c'è la fondazione di quell'altro non mi pare salvo che mi sia sfuggito qualcosa che sia molto chiaro tutte queste cose chi le paga e quindi per esempio questo è un diritto dalla cui effettività noi siamo molto lontani vogliamo parlare degli Stati Uniti dove una sentenza della Corte Suprema ha riconosciuto il diritto di libera espressione di pensiero delle persone giuridiche quindi delle persone giuridiche la Corte Suprema degli Stati Uniti riconosciuto il diritto di espressione del pensiero delle persone giuridiche sostanzialmente liberalizzando il finanziamento da parte di soggetti corporate della politica per cui ci sono tutta una serie di gruppi economici molto importanti pensate ai fratelli Koch pensate lo stesso Trump cioè tutta la vicenda della discesa in politica diciamo delle vicende di Trump è un groviglio che noi che ci siamo sempre noi italiani siamo sempre freggiati diciamo di essere precursori nel peggio da un po' di tempo stiamo lì seduti a goderci lo spettacolo di una roba che è inconmensurabile rispetto alle cose che abbiamo visto noi perché questo è veramente al di là di ogni immaginazione soprattutto nel paese che per anni noi nelle nostre manie di autoflagellazione vi ricordate questo in America non potrebbe succedere no? cioè fantastico e quindi voglio dire e quello è già insomma una battaglia di sinistra parità di accesso alla politica no? secondo principio di giustizia regolamentazione del mercato lotta ai monopoli regolamentazione del diritto del lavoro che cerchi di individuare un punto di equilibrio tra la flessibilità necessaria del lavoro e però la sicurezza del lavoratore sicurezza che può essere in termini appunto di sostegno al reddito di riqualificazione e così via e poi soprattutto l'idea che non tutti possono vincere cioè la società per sua natura è un'associazione nel mutuo vantaggio ma in un contesto che è caratterizzato inevitabilmente da conflitto di interessi perché le risorse sono limitate e quindi se mangi una mela in più io non la mangi tu allora è chiaro che noi dobbiamo trovare un qualche modo per remunerare quelli che riescono a produrre dieci mele piuttosto che tre però non possiamo consentire a chi produce dieci mele di condizionare il processo politico le scelte di fondo di un paese i diritti costituzionali perché a quel punto quello non ci avrà manco tanto incentivi per continuare a produrre efficientemente dieci mele perché dovrebbe farlo ve ne lascia tre e le altre se le porta su una spiaggia dei Caraibi e se le mangia con calma quindi voglio dire il discorso dell'eguaglianza a mio avviso rimane il discorso caratterizzante della sinistra è chiaro che però per fare un discorso di questo tipo bisogna fare una serie di passi avanti bisogna lasciarsi alle spalle l'idea che i diritti civili siano l'unico elemento caratterizzante di una sinistra moderna non è vero i diritti civili ovviamente sono molto importanti però riguardano sfere in alcuni casi certi diritti civili relativamente minoritari o comunque certi settori della popolazione sono una parte dell'insieme non sono il tutto e non ci si può illudere che tutelando solo quelli si riesca poi davvero ad avere una società di uguali perché altrimenti avete appunto il paradosso del miliardario che sostiene il partito progressista perché magari gli ha fatto la legge sulle unioni civili e gli operai incazzati che votano per il partito di destra xenofobo perché in fondo sono probabilmente meno sensibili all'esigenza di avere il matrimonio l'unione civile e però sono molto più sensibili all'esigenza di avere delle strade pulite di avere dei servizi sociali che funzionano bene e così via quindi non è vero che la sinistra ha realizzato i suoi obiettivi la sinistra ha realizzato i suoi obiettivi in una fase storica ben delimitata quella fase storica è finita noi non viviamo più da anni negli anni 90 siamo in un momento completamente nuovo che per certi versi ci ha riproiettato all'indietro di tantissimo una situazione nella quale esiste un conflitto tra capitale e lavoro anche se non esistono le classi sociali nel senso tradizionale e questo è un gran bel problema per la sinistra e quindi bisogna farsi carico di queste cose bisogna farsi carico anche dell'idea che in qualche modo non possiamo rimuovere completamente l'elemento della conflittualità dalla società cioè se io mi batto per migliorare la posizione di chi sta peggio è inevitabile che vada incontro a delle resistenze allora queste resistenze chiaramente con il metodo democratico tutto quello che volete però non possiamo illuderci come pure una parte della sinistra ha fatto come per esempio ha fatto se posso dire il PD negli ultimi 3-4 anni che il conflitto sociale non esistesse più perché tanto alla fine siamo tutti fantastici moderni e poi quelli che non lo sono perché sono brutti sono cattivi sono rosiconi i vari aggettivi che sono stati di volta in volta utilizzati secondo me questa è un'idea assolutamente difendibile è chiaro che è un'idea esigente vi faccio un unico esempio ma che secondo me è un esempio macroscopico enorme su cui esiste pensiero perché poi per fortuna c'è la gente che continua a scrivere continua a riflettere continua a ragionare sulle cose non c'è granché nel dibattito pubblico questa cosa però è un punto fondamentale il problema dell'accumulazione della ricchezza e il ruolo che la struttura sociale diciamo così familiare e così via ha nell'accumulazione della ricchezza è chiaro che una società del tipo di quella che descrive Rawls è una società che redistribuisce molto la ricchezza tra generazioni cosa vuol dire questo nel dibattito accademico c'è un sacco di proposte per esempio Hillel Steiner che è uno che ha scritto molti anni fa un libro molto bello sui diritti che è un un egualitario molto come dire non socialista nel senso che lui è un sostenitore di una di una sinistra market friendly per così via però Hillel Steiner per esempio segue una vecchia idea che risale almeno all'ottocento cioè quella che però per avere una società dove ci sia veramente eguaglianza d'opportunità ci dovrebbe essere sostanzialmente una sorta di azzeramento addirittura del trasferimento della ricchezza tra le generazioni cioè una tassa diciamo sull'accumulazione della ricchezza tale ora ovviamente questa è una cosa che quasi nessuno accetterebbe ciascuno di noi o molti di noi hanno figli nipoti persone a cui vogliono bene insomma e poi come dire questa cosa va a cozzare con cose molto profonde della natura umana però tra il tutto e il niente ci sono una serie di posizioni intermedie secondo me una sinistra che volesse essere fedele ai propri principi dovrebbe farsi un po' di domande su queste cose cioè per esempio abolire la tassa sugli immobili vi sembra una cosa compatibile non ha senso cioè una cosa che semplicemente dal punto di vista di principi del tipo che stavo dicendo non ha nessun senso è sbagliata punto poi uno può dire sì ma magari serve sì però è sbagliato quindi tu puoi anche fare cose sbagliate in situazioni di emergenza cioè voglio dire se c'è la guerra contro il nazismo ti puoi alleare con Stalin però lo fa in stato di necessità se fai diventare necessità la normalità non va più bene quindi si può essere di sinistra e non è detto che essere di sinistra sia una roba così una minestra diluita perché ci sono molte importanti battaglie che richiedono energie richiedono entusiasmo e richiedono anche saperi io a tutti i miei studenti che hanno seguito in questi anni il corso sulla teoria della giustizia la prima cosa che dico è studiata l'economia perché ovviamente uno dei punti cruciali diciamo della battaglia delle idee per la sinistra si gioca su quello che Marx chiamava la critica dell'economia politica che non vuol dire partire per la tangente immaginare la società del dono tutte queste cose qui che francamente secondo me sì certo magari a Tonga negli arcipelachi della Polinesia dove siamo in tre e ci sono non so noci di cocco sufficienti per tutti va bene però è chiaro che nelle circostanze quelle che appunto si chiama le circostanze di giustizia cioè dove c'è una scarsità limitata ma c'è comunque scarsità di risorse il problema non si pone il punto però qual è che comunque in ogni caso noi ci dobbiamo confrontare con per noi intendendo noi sinistri ci dobbiamo confrontare con quello che è lo stato più avanzato del pensiero economico quindi non immaginare un'altra economia ma andare a guardare cosa c'è che non funziona nell'economia cosiddetta mainstream e se è possibile smontarla pezzo a pezzo cioè in fondo la grande scommessa di Marx era quella cioè lui si mette lì e ragiona su quella che in quel momento era l'economia mainstream e dice questi ci stanno facendo passare un fatto sociale per una legge di natura e io vi dimostrerò che non è vero si mette lì e cerca di smontare la cosa non c'è riuscito del tutto però comunque una serie di cose importanti ci sono nei giorni scorsi Branko Milakovic che è uno dei più grossi esperti di diseguaglianza al mondo ha scritto un post che ha avuto un successo strepitoso condiviso tantissimo su Twitter su Facebook e così via in cui lui dice essendo un economista assolutamente autorevole quindi non un economista di una setta ma un economista che sta perfettamente nel mainstream ha fatto un articolo in cui ricordava tutte le cose importanti che comunque ci sono nella critica dell'economia politica di Marx per esempio cose come appunto la consapevolezza del conflitto nei rapporti economici la consapevolezza dell'importanza di quelle che poi più tardi saranno chiamate le asimmetrie informative tutta questa roba qui innuce nell'analisi del capitalismo di Marx tutte queste cose ci sono allora rimettersi lì a tavolino studiare ma non ripeto farsi prendere dalle utopie ma studiare l'economia capire come funziona l'economia per dare alla propria spinta diciamo così radicale un aggancio di comprensione del mondo altra cosa e questa l'affronto più rapidamente mi riporta non più al tema destra-sinistra ma al tema elite popolo noi negli ultimi anni abbiamo assistito a un fenomeno progressivo di radicalizzazione della politica dei paesi occidentali dove questa contrapposizione è diventata una contrapposizione saliente perché è accaduto questo secondo me questa è la mia interpretazione perché da un certo momento in poi quello che era diventato in qualche modo l'opinione progressiva cioè l'opinione delle forze più liberali più aperte che quindi erano per esempio in favore del processo di unificazione europea e tutte queste belle cose qui ha cominciato a attuare una diciamo una sorta di meccanismo di rimozione di quello che era un problema sempre più macroscopico che stava emergendo per via della crisi economica cioè l'idea che il vecchio argomento che mi ricordo usava sempre quando io scrivo al riformista Antonio Polito Antonio che è stato un grande entusiasta di Blair anch'io sono stato molto entusiasta di Blair poi a un certo punto ho cambiato idea strada facendo però Antonio diceva sempre questa cosa che era molto popolare negli anni di Blair cioè del trickle down cioè l'economia cresce fate crescere l'economia più possibile e la ricchezza sgocciola sotto in realtà questo succede se l'economia ovviamente cresce moltissimo in condizioni particolari se l'economia non cresce questo non accade più allora continuare solidamente a insistere sul fatto che chi non vede più nessuna goccia che arriva deve stare buono tranquillo calmo non disturbare eccetera perché prima o poi la goccia arriva un anno due anni tre anni ma quando la crisi dura per un decennio e produce una massiccia enorme come molti studiosi stanno dicendo redistribuzione al contrario della ricchezza cioè nel senso che torniamo a situazioni pre anni 50-60 cioè quando c'è stata una grande spinta verso l'eguaglianza è chiaro che questa cosa qui non funziona così come non può funzionare la difesa della società aperta quando le persone hanno paura si trovano in una società molto come dire che in qualche modo avvertono come una società minacciosa molti anni fa ai tempi di una crisi economica meno grave pare che fossero a un certo punto negli anni 80 ci fu un film francese molto bello che si chiama La Crisi Colinserot credo che fosse ed è la storia è un film che adesso andrebbe cioè voglio dire se si dovesse rifare un'altra scuola di politica dovremmo partire proiettando quel film cioè un altro mondo prima dell'89 il protagonista è un avvocato francese fighissimo uno che avrebbe votato per il PD se fosse stato trasferito con la camicia bianca tutto così eccetera che ovviamente vota per i socialisti e vive a Parigi in pieno centro a un certo punto c'è la crisi e chiudono lo studio decide di restringere le cose e lui viene licenziato di punto in bianco e quindi la sua vita comincia a andare a rotoli e in questo andare a rotoli e la sua vita lui incontra un altro poveraccio come lui che però è un poveraccio vero perché è uno che vive nelle banlie e fa amicizia con questo qui e comincia a fare delle conversazioni molto interessanti con questo signore e c'è una conversazione che è veramente una cosa stupenda la trovate anche facilmente online una scena dove ci sono questi francesi progressisti socialisti molto chic eccetera che stanno parlando di come è orribile Le Pen il Front National tutte queste cose qui e c'è questo signore perché lui se l'è portato dietro ha fatto amicizia questo poveraccio e quindi se lo porta anche alle cene dei suoi amici questo sta lì seduto e anche uno un po' così con un'aria triste vestito male a un certo punto questo comincia a parlare e dice sì però sì voi avete ragione effettivamente brutto quelli sono fascisti però sai io vivo nelle banlie gli emigrati vanno nelle banlie non vengono a vivere qui dove state voi nel quartiere del centro di Parigi eccetera e poi fanno questo 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 e praticamente è stupenda questa cosa perché si vede che progressivamente le certezze di questo gruppo di persone vanno in crisi e loro reagiscono con un meccanismo di negazione cioè a questo punto loro trattano anche il poveraccio come un fascista dicono ma allora tu sei brutto e cattivo come loro allora questa cosa qui è secondo me il film di Conizio tra l'altro dimostra che non eravamo impreparati lo sapevamo che le cose potevano andare così bastava avere un minimo di come dire di conoscenza della storia dei meccanismi di fondo della politica cioè non illudersi che come dice un mio amico che insegna in Bocconi l'esame di microeconomia sia tutto quello di cui tu hai bisogno per fare politica cioè la politica è una roba un po' più articolata della microeconomia con tutto il rispetto microeconomia è una cosa importantissima ovviamente però è lo studio dei modelli poi ci sono le persone reali che fanno cose strane in parte irrazionali ragionano male però poi votano e quindi in qualche modo è meglio sapere quello che possono fare persone che ragionando male poi vanno a votare non negare che quelle persone esistano no? e questo è stato secondo me il grande problema con cui noi siamo andati a sbattere ma diverse volte cioè ci siamo andati a sbattere su Brexit ci siamo andati a sbattere su elezioni di Trump ci siamo andati a sbattere sul referendum costituzionale e la cosa che io vedo con ne abbiamo parlato diverse volte con Ferruccio Ferruccio sa che io è parecchio tempo che nutro diciamo delle crescenti ansie per questo problema la cosa che 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 io trovo più preoccupante è che appunto c'è stato rispetto a questo tipo di problemi una reazione di totale di niego ecco Ian Zielonka che è un liberale non sospetto di simpatie per la destra ha pubblicato da qualche mese un libro che si chiama Counter Revolution dove lui mette in fila proprio tutte queste cose e fa vedere come la politica occidentale degli ultimi cinque o sei anni è caratterizzata da un tratto di fondo che non è il populismo che è una categoria come dire che è utile per certi versi ma che non spiega tutto è caratterizzata da una rivolta nei confronti di tutto ciò che è accaduto immediatamente dopo l'89 cioè sostanzialmente la spinta molto forte verso la globalizzazione dei mercati il superamento dei confini nazionali la circolazione delle merci dei capitali e così via che viene da parte di tutti quelli che ha ragione o in qualche caso ha torto nel senso che non sono ripeto si sentono minacciati non sono ancora diventati dei perdenti nel senso pieno però hanno paura di essere dei perdenti e che a un certo punto hanno cominciato a reagire con sempre maggiore insofferenza sempre maggior fastidio nei confronti invece di una classe politica che in larga misura si identificava con le sinistre e con i partiti diciamo di centro per esempio in Polonia erano i liberali liberaldemocratici che non sono sinistra perché la Polonia non ha la sinistra cioè nel senso che è residuale per ragioni storiche però il partito appunto che attualmente ha il governo che è un partito appunto di destra tradizionalista e così via prevale contro i liberali perché? perché i liberali sono quelli che sono per l'apertura per una società più tollerante cosa vuol dire questo? che dobbiamo assecondare la paura? ovviamente no ma negare la paura non è mai stato un buon modo per governarla no? e questo gli antichi lo sapevano molto bene Aristotele che è sempre uno da prendere sul serio secondo me anche se non aveva un PhD in economia e non probabilmente non sarebbe stato considerato uno che poteva avere una idoneità per insegnare oggi non so l'Ambur come si sarebbe regolata con Aristotele però Aristotele quando affronta il tema delle virtù nell'etica nicomachea dice il coraggio non è l'assenza della paura il coraggio è riuscire a governare la paura cioè a fare le cose che devi fare nonostante il fatto che hai paura allora se lo trasportate nel campo della politica il punto è quello cioè non negare le paure cercare di governarle noi abbiamo assistito per esempio negli ultimi anni alla oscillazione tra una situazione in cui le paure non esistono perché non stanno nella nostra visione del mondo no? la società aperta è bene per definizione quindi tutto ciò che non è società aperta deve essere negato combattuto e così via a una situazione nella quale si cominciano ad assecondare le paure pensate alle scelte ultime per esempio dell'ultimo governo italiano su alcune cose come i respingimenti l'accordo io temo scellerato di cui prima o poi risponderemo come paese e probabilmente stiamo già per farlo perché ci sono già state delle azioni legali che sono state accettate quindi prima o poi finiremo credo anche come dire a dover rispondere di queste cose dove in realtà si asseconda la paura ma non si fa nessun tentativo reale di governarla governare la paura fare significa innanzitutto come dice Massimo Livibacci che è il massimo demografo italiano fare un discorso di verità con la popolazione che faccia vedere come tutte le dinamiche demografiche indicano cioè nel senso che l'Europa cioè immaginare un'Europa con i confini chiusi significa immaginare un'Europa che scompare e non c'è perché non ci sono cioè non c'è modo di compensare le dinamiche demografiche quindi il problema è quello di governare questa cosa governarla nel modo migliore ma non è attraverso il diniego che si governano questi fenomeni e oltretutto se si vuole governare un fenomeno come quello dell'immigrazione ti devi fare carico delle situazioni di prossimità allora tu non puoi pretendere che chi si sente minacciato dall'immigrato perché vive vicino all'immigrato perché magari compete con l'immigrato per piccole opportunità eccetera eccetera stia zitto buono e tranquillo perché la storia va in quella direzione e quindi lui deve stare tranquillo perché lui a un certo punto dirà vabbè ok probabilmente la storia mi travolgerà ma io nel frattempo ti scateno l'inferno cioè farò di tutto per vendere cara alla pelle insomma di nuovo è quello che sta succedendo tutto qui grazie abbiamo un po' di tempo ovviamente a voi la parola per procedere prego vieni buonasera grazie la ringrazio soprattutto per una cosa per aver sollecitato questo diciamo questo ragionamento che in un certo senso ci rassicurava cioè questo in America non potrebbe succedere io mi ricordo che un editorialista del Corriere aveva scritto che è verità acclarata che le donne siedono sulla loro fortuna e quando io avevo letto questa cosa avevo detto beh questo in America non potrebbe succedere e questo lo licenzierebbero immediatamente adesso c'è Trump e quindi ho pensato che fosse in un certo senso quasi una lezione della storia no? cioè visto che la condizione femminile in realtà non è ancora effettivamente paritaria ecco che l'illusione che coltivavamo alla fine come dire ci si ritorce contro e arriva anche Trump a smascherare la condizione ancora subalterna del sesso femminile ma volevo sapere lei cosa ne pensi? sì allora io questo è un tema che mi mi ha diciamo sollecitato molto negli ultimi anni per per due ragioni essenzialmente una è quella che io mi occupo prevalentemente di diciamo di autori che appartengono al mondo di lingua inglese quindi per varie diciamo ragioni legate ai miei interessi accademici un po' seguo molto anche quindi la stampa i dibattiti culturali e così via di quel paese di quei paesi e devo dire che col passare del tempo mi sono andato convincendo che un certo tipo di idealizzazione del mondo ora uso un'espressione che io non uso mai perché la trovo scorretta del mondo anglosassone che appartiene a un pezzo dell'elite italiana che era quella che si considerava più aperta al mondo più progressista eccetera in realtà anche se in una certa fase storica probabilmente ha avuto un effetto positivo di apertura a un mondo che in fondo subito dopo la guerra era un mondo che l'Italia conosceva poco per via del fascismo di tutte le cose poi col tempo si è diventato in realtà regressivo come spesso capita con le costruzioni che sono anche un po' ideologiche cioè io penso per esempio ai miei maestri o comunque diciamo i maestri dei miei maestri persone come uberto scarpelli come bobbio nei loro scritti degli anni 50 immediato dopo guerra quando loro hanno l'opportunità di cominciare a viaggiare vanno a visitare oxford conoscono cioè è tutto una cosa meravigliosa questi sono posti che sono il paradigma stesso della civiltà gli inglesi fanno la fila i college sono questi posti meravigliosi dove tutti stanno lì studiano in piena libertà non come in Italia e tutto i bidelli il casino il disordine ora ovviamente poi diciamo più tardi nella vita io ho lavorato per due anni nel Regno Unito insomma e poi uno si rende conto che in realtà quello era semplicemente un generalizzare a partire da un'esperienza molto limitata cioè questi intellettuali italiani spesso entravano in contatto con l'elite per l'appunto degli altri paesi avevano delle esperienze che erano delle esperienze limitate a certe zone a certi contesti particolari in realtà poi il mondo appunto di lingua inglese io preferisco dire così piuttosto che anglosassone perché voglio dire c'è un po' di anglo e pochissimo sassone ormai da molto tempo il mondo di lingua inglese è un mondo straordinariamente variegato complesso è diviso al suo interno per esempio un luogo comune dell'Italia era fare riferimento alle democrazie occidentali ovvero sia l'Inghilterra e gli Stati Uniti due paesi in una diversità totale il Regno Unito è un posto dove fino alla riforma costituzionale di Blair l'aristocrazia del sangue stava in Parlamento per diritto di nascita l'America in qualche modo è un paese dove un'idea per certi versi quasi populista della democrazia si è affermata a un certo punto alla fine dell'Ottocento voglio dire Trump è reso possibile da quella cosa lì cioè dall'idea io vi avevo portato oggi un libro che era perché mi avevano chiesto di segnalare delle letture che è questo libro di Tom Nichols La conoscenza e i suoi nemici l'era dell'incompetenza e i rischi per la democrazia che parla proprio di questo Tom Nichols è uno studioso americano abbastanza conservatore devo dire tra l'altro che però fa tutto un ragionamento proprio su questo cioè su come è un libro che parla molto dell'America in realtà descrive una situazione che è quella degli Stati Uniti di come appunto alcune tendenze di fondo della società americana che risalgono all'Ottocento per esempio la tendenza che Tocqueville già vede molto bene per cui gli americani diciamo hanno questo istintivo diciamo così in qualche modo diffidenza nei confronti delle autorità di qualunque tipo quindi non solo del governo centrale che è sempre potenzialmente minaccioso ma in fondo anche delle autorità culturali c'è una lunga tradizione di antintellettualismo per esempio nella cultura pubblica americana tutte cose che confluiscono nell'alimentare certi fenomeni della politica statunitense che per esempio non appartenevano al Regno Unito fino a un tempo molto recente cioè una delle grandi sorprese di Brexit è stata questa che in realtà il Regno Unito è un paese che nonostante gli anni della Thatcher la Thatcher in fondo era molto americana nella sua cultura cioè proponeva un modello che era molto più americano che non britannico il libero mercato non è mai stato un feticcio per i conservatori inglesi tutt'altro anzi cioè voglio dire c'è tutto un filone continuamente di diffidenza nei confronti della società commerciale perché la visione del conservatorismo britannico è una visione più tradizionale in qualche modo dove valori anche di carattere non materiale venivano considerati dei valori molto importanti la Thatcher cambia tutto questo in reazione a una grande paura che è la paura della crisi economica degli anni 70 e anche questo è molto interessante perché in qualche modo è una radicalizzazione della destra in seguito a una situazione di grande crisi economica che la sinistra non riesce più a gestire in modo efficiente e ripeto quindi la faccenda lì non potrebbe accadere in realtà è un po' una cosa che ci siamo raccontati noi perché una parte dell'elite del nostro paese secondo me nel corso degli anni è andata sempre di più perdendo fiducia nella possibilità che il nostro sia un paese che può riformarsi e quindi si aggrappa da un lato a modelli che spesso sono dei modelli di fantasia io devo dire che comincio ad avere dei dubbi persino sull'idea del maggioritario nel senso che io sono stato un convinto sostenitore del maggioritario come sistema politico ma proprio cioè nel senso a me piaceva proprio l'uninominale nel senso che tra l'altro trovo ancora oggi lo spettacolo dell'Election Night nel Regno Unito una delle cose più entusiasmanti che si possano cioè quella cosa meravigliosa che uno perde l'altro vince e vanno in tv a fare la dichiarazione del voto cioè è veramente la festa della democrazia però in realtà richiede delle condizioni sociali molto particolari e per esempio richiede una società molto strutturata al suo interno infatti ora che il Regno Unito è molto più americano il sistema sta cominciando a traballare in maniera molto forte perché ovviamente un sistema quello maggioritario genera un sacco di problemi genera una per esempio uno stile di politica molto confrontational noi ci siamo sempre compiaciuti ecco vedete il Parlamento britannico come loro certo i dibatti sono molto molto duri nel Parlamento britannico però uno deve anche guardare il contesto il contesto è un sacco di cose è la monarchia è il civil service che fino a un certo punto è stata una una forza di bilanciamento fortissima perché il civil service funziona il civil service sarebbe diciamo è una parola molto difficile da tradurre in italiano cioè è l'amministrazione pubblica nella parte però alta che ha a che fare con l'amministrazione dello Stato sostanzialmente che è una carriera che un tempo era una carriera veramente aperta ai migliori talenti e il cui compito è quello di controbilanciare l'instabilità generata dalla democrazia al punto tale che nel Regno Unito questa cosa è diventata un luogo comune della cultura popolare perché c'è una serie televisiva famosissima che è stata un grande successo per anni non House of Cards che poi è stata copiata dagli americani ma una serie che si chiamava prima Yes Minister e poi Yes Prime Minister che è una roba su cui si potrebbero fare dei seminari di politica interessantissima perché il protagonista è un uomo politico che è un un po' un parvenu avrebbe detto Marx si capisce che viene da un partito di sinistra anche se non è mai detto esplicitamente nel telefilm il quale a un certo punto diventa ministro perché vanno al potere i suoi e si deve confrontare con l'apparato dello Stato nella persona di Sir Basil Sir Basil è un alto funzionario del civil service è stato a Oxford e il suo compito nella vita è impedire a questi pazzi impreparati che non hanno il senso del funzionamento della macchina dello Stato eccetera di fare dei disastri e quindi tutto il telefilm si gioca su queste conversazioni e ce ne sono di meravigliose per esempio se voi andate a guardare e si trova molto facilmente su Youtube il brano in cui Sir Basil spiega a un altro funzionario la politica britannica rispetto all'Unione Europea è un grande capolavoro perché era scritta da persone molto competenti e quindi lui spiega questa cosa e dice no ma noi dobbiamo stare all'Unione Europea perché il nostro compito è giocare i francesi contro i tedeschi i tedeschi contro i francesi i francesi e i tedeschi contro gli italiani e gli italiani contro i belgi e così via quindi noi dobbiamo stare in Europa non dobbiamo uscirne perché ovviamente negli anni 80 questo era già un tema nella politica britannica e Sir Basil spiega perché l'interesse nazionale del Regno Unito aveva bisogno di questa cosa qui allora questa è una cosa che per esempio in America non esiste cioè lo spoil system di cui noi vi ricordate quando a un certo punto in Italia abbiamo detto dobbiamo fare lo spoil system fighissimo però quello nel Regno Unito non c'era lo spoil system l'ha introdotto Blair a un certo punto con risultati che tutti dicono pessimi perché prima il civil service era abbastanza autonomo e quindi garantiva una qualche imparzialità della macchina dello Stato Blair ha cominciato a portarsi dietro i consulenti che spesso entrano e escono dalle aziende private e c'è un certo consenso ormai di tutti che questo sia stato un peggioramento considerevole nella qualità dell'amministrazione pubblica nel Regno Unito quindi su tutto questo e la storia appunto di Berlusconi e del da noi non potrebbe succedere secondo me è proprio cioè noi avevamo una visione talmente così da favola del sistema politico degli Stati Uniti a non rendersi conto che poi in fondo questo è un sistema dove c'era stato il Watergate c'era stato appunto Nixon che a un certo punto aveva usato in modo molto spregiudicato i suoi poteri di presidente c'erano state un sacco di cose non del tutto limpide non del tutto commendevoli quindi l'idea che un signore con veramente tanti soldi potesse in qualche modo trovare approfittando di un partito repubblicano un po' in crisi di un partito democratico che non riesce più a trovare una sua constituency per le ragioni che abbiamo detto di cos'è sinistra eccetera eccetera insomma cioè non era facilissimo da prevedere ma non era affatto impossibile e comunque non era escluso categoricamente da questa mitologica superiorità a parte che poi ormai la mia impressione io qualche l'anno scorso ho scritto per il mulino una cosa che si chiama proprio il declino dell'anglosfera perché c'è stato questo discorso un po' negli ultimi vent'anni si favoleggiava di questa anglosfera di questa diciamo comunanza di paesi che in qualche modo hanno una cultura politica comune eccetera io cercavo di spiegare che innanzitutto è un costrutto ideologico abbastanza farlocco se uno lo va a guardare nei suoi dettagli per le ragioni che ho esposto ma poi seppure vogliamo dire sì insomma c'è stato un momento di egemonia a questo punto degli Stati Uniti nel secondo dopoguerra ma ormai stiamo assistendo in maniera piuttosto chiara al suo al suo declino ora può darsi che le cose cambino però la mia impressione è che cioè le dinamiche che si sono messe in moto con la Cina che diventa una grande potenza e che ormai comincia a esercitare il ruolo di una grande potenza non so se l'avete notato ma la Cina sono alcuni anni che comincia a comportarsi con una grande potenza anche dal punto di vista militare cioè non fabbricano più soltanto bottigliette gadget cioè cominciano alla cinese perché i cinesi diciamo i cinesi dell'elite non fanno sceneggiate perché hanno una cultura diciamo che non è una cultura di però cominciano ad alzare anche la voce figurativamente quando ci sono in gioco quelli che loro considerano interessi primari della Cina e poi tutto quello che sta succedendo l'Africa che in certe sue parti cresce cioè ormai questa questa specie di idea che infatti è diventata una cosa ossessiva nel dibattito pubblico nel Regno Unito il dibattito pubblico una delle cose che ha provocato Brexit è questa che ormai il Regno Unito è fatto per metà di persone che vivono in una fantasy land fatta di Re Artù James Bond quando eravamo fighi quando c'era Vittoria e così via e un'altra parte che odia la prima parte quindi pensa che tutto quello che quegli altri dicono è tutto orribile tutto sbagliato e che quindi bisognerebbe diventare qualcosa di diverso preferibilmente Belgi o qualcosa del genere quindi è un paese che ha una crisi drammatica al suo interno da cui non riesce a uscire gli Stati Uniti sono messi come sono messi quindi insomma viviamo tempi nuovi e molto interessanti concordo vediamo se ci sono altre domande sempre anche la curiosità di questo mondo anglosassone il maglio ci porta ci fa vivere concretamente dai dai da lì dai forza voglio solo dire questo che qualche sospetto sul mondo di un anglosassone io l'avevo detto quando l'economista aveva fatto la copertina di Superbosconi l'anfit sì perché ve lo dico per esperienza personale rispondi al telefono parlai con l'editori inglese ed erano terrorizzati all'idea di fare questa copertina in Italia e io spinsi dicendo no guardate che fate il voto dovete prendere assolutamente questa copertina e portarla in Italia e se c'è e se è uscita quindi quella copertina in Italia è grazie a me però all'epoca pensavi mamma mia che viva che c'ha sto editore vedo non ci sono altre osservazioni allora lasciatevi ringraziare Mario tantissimo ovviamente grazie a tutti voi domani mattina l'ultimo appuntamento bene 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 bella grazie a tutti grazie a tutti